benvenuti su real napoli football ragazzi abbiamo fatto due vittorie di fila che ci aiutano a respirare un po in classifica e soprattutto a farci accumulare qualche punticino adesso andiamo a cercare subito il prossimo avversario come sempre ragazzi se vi fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale commentate per farmi sapere che ne pensate di questa scalata la divisione 1 con sui giocatori del napoli detto ciò vediamo che ci capita in questa puntata napoli milan sembra un avversario un po tosto napoli milan allora nostri ragazzi in questo sono tutti bene tra l'altro cosi ma non se ne ha un bel po di partite difesa a tre proviamo ad invertire gli esterni come facciamo nostro solito sempre assist di salvio per quanto riguarda la difesa 3 loro giovano un rombo a centrocampo interessante con il nostro centrocampo lo lasciare così anzi tendere a stringere leggermente le mezze ali secondo me è meglio gli esterni li allarga un po di più ancora vediamo se riusciamo a beccarli laterali però tenendo il centrocampo abbastanza compatto parte napoli milan un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da fabio carezza questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'era bella le condizioni di oggi sono ideali osimen palla per lo botca allarga per mario lui proviamo a partire forte con lui che cerca subito dentro vittor osimen la palla non passa questa curta anticipa vittor rilancio lungo di lorenzo poggia ranghissà che cerca di lorenzo palla recuperata raccomani fermato raccomani lo botta recupera ancora palla per raccomani va ranghissà che va subito dentro da osimen si gira osimen allarga per mario lui dentro per osi politano dentro per mario lui attenzione si ferma lui la cross e mezzo raccomani che non si sa che ci faceva lì una conclusione migliore amir raccomani intanto ha rischiato di farci passare in vantaggio amir frien megnan rinancio lungo lo botta inutilmente su hollande effettivamente attenzione politano zielischi trova a recuperare nata ha un bel po' di campo zielischi se lo prende tutto allarga per politano clarità zielischi che arriva che l'alza però si menna la palla resta lì e megnana la para di lorenzo niente da fare lo bocca anghissà perde questo pallone malamente raccomani grande anticipo di raccomani che poggia l'anghissà teo arnandez recupera alla grande riparte il milan attenzione oland palladino trodui mamma mia riesce a spazzarla lui osimen oggi a percorrere scheda che fa correre zamba anghissà teo arnandez però è più veloce recupera palla ma ce la regala ce la regala teo di lorenzo palla brutta per caraschele attenzione leaolo bocca richiude bellingham e anghissà prova ad allargare per caraschele un po' sfortunati qui palla sporcata ricoprata dal milan mario lui dentro per messi si para tutto alex le clan rice dentro la butta fuori di lorenzo politano palla per caraschele a caraschele a dentro per zilischi che appoggia matteo politano clarità zilischi che prova ad andare dall'altro lato c'è anghissà 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 dentro per rosimè non ci credo ragazzi qui mi divore un gol già fatto di lorenzo palla dentro per caraschele a che cerca zielo che prova a tirare niente da fare di lorenzo lo bot carico per la palla allarga per caraschele a scende clara rientra caraschele a non esce a tirare a costare tomori lo anticipa palla per noi ancora ci siamo mangiati un gol spaventoso di lorenzo palla per raccomani preferisce spazzare d'altro lato per politano che appoggia per mario lui che scende lui va lui fino in fondo mario lui il trossi in mezzo ci lo si mandi testa megnana megnana mario lui recupera ancora palla per zilischi dentro male per annissà si supera megnano lo botta attenzione raccomani recupera palla mario lui va da zilischi tacco per osimen vada anghissà niente da fare riparte il milan lo botca natan allarga per mario lui dentro per politano che cerca subito zilischi 1 2 con matteo politano che finiva sulla fascia politano prova a rientrare politano dentro per mario lui fuori gioco di lui fuori gioco di lui ci ha provato politano megnana rilancio lungo con lo bocca che prova a contrastare ancora oland niente da fare lobo appoggia di drommeret che prende questo pallone rilancia lungo verso victoros i men che appoggia ranghissà che cerca caraschelia si gira carara mangiato da tomori totalmente alla dentro verso leao prova a chiuderlo di lorenzo non ci riesce raccomani fino in fondo mario lui e poi zielischi con un brevido riesce ad allargare per politano che cerca dentro victoros i men e chiusura di questa forza entra fare di lorenzo a contrasto con teo palla ricoverata da leao anghissà palla per caraschelia dentro per victoros i men che prova ad andare da politano matteo politano passiamo con lui matteo politano 1 a 0 palla dentro lo bo meret rilancio lungo l'alza verso si men che prova a girarla per caraschelia niente da fare qui quara gran recupero palla attenzione quara schella fino in fondo quara 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 schella per rosi men li puniamo in contropiede con victoros i men che torna a segnare dopo un bel po' di tempo ventiquattrisimo stagionale di victor a ripartire loro lo bocca caraschelia appoggia per anghissà errore di anghissà qui provano ad andare centralmente loro scappiamo all'indietro racca mani c'è oland palla fuori palla fuori meretto rilancio lungo di alex meretto si men però a prendere posizione costa curta lo contrasta mario rui ricopre una gran palla e allarga per matteo politano che in fuori gioco cazzo è possibile era in fuori gioco matteo difesa altissima del minan rilancio lungo di marchegna snatan la mette giù poi zielischi palla per politano che si gira e se ne va matteo politano l'appoggio a zielischi che arriva palla per vittor o simen varanghissà tacco per caraschelia palo palo di caraschelia attenzione prova a ripartire il milan racmani recupera palla o simen prova a girarla niente da fare lo bocca alza questo pallone e poi la ricoverata 2 a 0 fine primo tempo ragazzi siamo avanti dobbiamo continuare così parte il milan attenzione rilancio lungo lo bocca palla dentro bellingham mamma mia pa non ci credo ma che gol è ragazzi sono entrati in campo con un altro passo si vede subito in questo secondo tempo che mamma io che gol è vi prego che cosa è successo c'è palo boom boom c'è boom mamma 2 a 1 senza senza velo bocca palla per di lorenzo allarga per caraschelia che cerca dentro anghissà la palla non passa ripartono loro attenzione lo bocca errore di lobo fallo su lo bocca fortunatamente bene così lobo cerca subito dentro caraschelia gran palle dello bocca per quara che cosa ha preso megnana che cosa ha preso megnana le avevamo sorpresi su tutti i fronti ragazzi rachmani palla per anghissà che appoggia lo bocca ancora oland mario lui lobo palla per zilischi che scende zelo per lo bocca dentro per osimen tacco per anghissà la palla non passa provano a ripartire loro attenzione palla dentro per leao prova a scendere il milan lo bocca lo ferma ancora e allarga per caraschelia che si gira e se ne va a caraschelia dentro per anghissà che vada vittorosi man che appoggia appolitano ancora su megnana appolitano dentro per caraschelia la palla resta su anghissà frank zammanghissà ci riporta avanti di due gol ed è il decimo gol stagionale di zammanghissà ragazzi decimo gol stagionale di anghissà inizio di stagione incredibile ancora vola incredibile mamma mia che odio profondo 3 a 2 odio profondo per queste cose ma d'altronde il gioco è così 3 a 2 attenzione di lorenzo scende giannino di lorenzo palla dentro per rosimena che prova ad appoggiarla per caraschelia che se la porta fuori 3 a 2 attenzione megnana rilancio lungo c'è ancora volandolo bocca contrasto zilis che recupera palla non riesce a darla a caraschelia palla dentro prova ad attaccare il milan di lorenzo palla dentro recupera giannino di lorenzo e vada anghissà che si allunga troppo palla attenzione di lorenzo in chiusura raccmani spazzami raccmani palla per osimen anghissà lunga per caraschelia ripartenza fermato cavara solo per un momento la recupera la riperde molto male attenzione ancora holland natan lo ferma per accamani rilancio lungo osimen riesce a girarla per politano dentro per osimen se ne va osimen 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 la alza dall'altro lato no malissimo rilancio lungo anghissà zieliski palla per caraschelia osimen fallo su osi calcio di punizione dal limite ragazzi facciamo qualche cambio facciamo qualche cambio tra l'altro facciamo un po' di freschezza con l'instrom stiamo facendo giocare spesso dentro il ciolito per osimen assolutamente osimen è stanco c'è un raspatore on fire dentro al posto di politano ok olivera ostigar il resto forse aspetterei eventualmente si eh bravo ma serio ma serio attenzione cavara cavara schelia sulla barriera totalmente brutta battuta di lorenzo chissà palla per cavara che penetra cavara niente da fare tirata proprio male sta munizione non fa niente prova a ripartire il milan di lorenzo cavara attacco per anghissà che cerca subito il ciolito chiuso da marchinius di lorenzo colpire di testa cavara schede anghissà la palla resta lì niente da fare anghissà prova a recuperare le ha palla dentro chiusura di raccamanino poi di lorenzo si palla verso meretto la stoppa e rilancia verso il ciolito simone che appoggia dietro per l'instrom che allarga per mario lui dentro per raspadori fallo su raspadori proviamo a tenere palla su lobo cercherà il ciolito la palla non passa il cazzo combinato vabbè anghissà attenzione l'instrom palla dentro di lorenzo proviamo a chiudere arriva natan che spazza verso il ciolito che tiene posizione l'instrom si mette anche l'arbitro incredibile l'instrom prova a scendere il milan qui di lorenzo proviamo a chiudere cross in mezzo la palla resta lì di lorenzo la mette fuori ciolito niente da fare palla fuori l'instrom si fa rubare la palla incredibilmente palla verde Bruin che tira meretto fa un altro miracolo e poi mario lui la mette fuori per l'aspadori che prova a buttarla niente da fare stiamo rischiando tanto raccamani anghissa allarga per caraschelia prova a driblar credibile palla dentro attenzione di lorenzo prova a chiudere su musiala mario lui mario lui palla fuori poi l'instrom riesce a trovare caraschelia qui che allarga per anghissa caraschelia perde palla attenzione sofferenza massima per il momento lo bocca bravissimo lo bo con di lorenzo che la butta ancora fuori il ciolito prende posizione anghissa fa correre caraschelia che appoggia per l'instrom scende l'instrom che l'alza verso il ciolito che stacca il ciolito la chiude contro piede perfetto la chiude il ciolito lo bocca colpisce attenzione di lorenzo rilancio lungo ciolito simeone colpisce branghissa che riesce ad allargare per caraschelia che cerca l'instrom 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 la parata di megnano attenzione provano a ripartire ancora loro raccomani allarga per caraschelia fuori gioco di caraschelia e 4-3 batti sul lobo di prima su zelo e filtrando su se ti trovi in porta addirittura ok ci devo provare lancio lungo attenzione lo bocca ancora a contrastare di lorenzo appoggia per raccomani palla fuori sbagliata palla dentro Nathan lancia fuori 4-2 ce la portiamo a casa segna anche il ciolito bene così bene 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 così anche perché la nostra terza vittoria di fila il che ci dà molta aria